ok diventi due, fai l'arciare te eh? si, il mago fa danno, l'arciare fa danno e poi il curatore è un tank si eh? il mago e l'arciare fanno danno, è il classico partist capito, devo vedere anche le origini qui, cruciato, smarrito la fede, tanto io quando gioca io non l'ho tradotto in italiano, più certo mago guerriero, chiarico, evocatore, incantatore, sempre lo visti a modo vestivi eh? mago puro faccio? io farei mago puro, poi aspetta te e che c'è anche mago guerriero volendo eh? comunque poi poi cambia tutto, poi cambia tutto quando arrivi alla prima isola eh? da una possibilità di disettare si, lo ricordo, è vero il curatore e il chiarico praticamente, se no c'è anche l'incantatore che... ma il curatore e l'altank li prendiamo sulla via ah si si mi ricordo il nano lo stregone te l'ho mai fatto come? lo stregone non l'ha mai fatto perché hai deciso tra stregone e mago l'ho fatto... io fece evocatore mago evocatore quando... inizia il consiglio tanto quello posso cambiare, parto stregone e poi si vedrà, dai eh? si si ah i capacità vanno cambiate aspetto fatto, classe stregone si ah mi ricordo si questo video ma anche la storia non era male ma te l'hai finito? no no e i magistrati hanno dirgerti la deduzione dei tre proprio come avessi voglia io ho sfruttato e colore... e sento a Fort Joy ok... un po' intontito, non ti preoccupare è la tercera team ah, cazzo, un problema di volute se non fai termine, ecco capito abbassare un pochino il tv, semmai Simo e ti rientra in registrazione ah, ma si che hanno fatto con me? non ci sono ieri ci credo, ma che lo dici? beh, ho dovuto troppo cosa è successo, Luca? chi è questo lì? eh... il telefono? un giovanotto sì eh? eh, praticamente mi avevo svincolato da te praticamente non mi ricordo che i miei spaventano non mi ricordo casse, tutto vuoto ah, rutellina per... per ruotare 119 monete ma te gli oggetti com'è il discorso? sono in condivisione? no, penso di no no? eh, non lo so eh, non mi ricordo niente dove prenderci... inventario? no, mi sa che c'è l'inventario di gruppo e l'inventario mio tasti rapidi riusciamo di zanzare cadavere di gonfio i loro formi qui c'è il veleno la peccamena e una cura ok, dove vai? hai su a fare la porta? no, eh, boh, sono andando a casa l'hai scassinato lì? no, ma ci hai buttato... ecco è riuscito a tappare la porta ah, sì, mi ricordo che c'era questa... ah, sì mi ricordo che c'era questa... qui ci siamo aiutati la frutta? non ci aspettate un nido le monete ma le monete fai un po' le monete sono in comune, mi sa no, le metto tutte a me zaino di pisa che cazzo te, Luca? ah, sì mi ricordo che sulla... sulla baracca io mi visi a arredare tutto eh, però così... l'oggettima... amico degli animali beh, però così... l'oggettima... mi fa sistemare un po' l'oggettima... 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 non c'è non c'è non c'è non c'è Ah no Ti faccio un'altra volta Ah, le scalverie lì, sì, ci sta Però mi ricordo che si può sfondare Con l'arco Troppo difficile per me Ma io non so Non so armi Contro, ti hai bisogno di contro E hai colpa a contro Perciò è troppo tempo forse, dai Guarda Eh, le fai più di me Ma c'è la chiave qui, comunque, in qualche parte Io non lo trovo C'è, c'è Mi ricordo che anche ogni della prima volta La trovavo, ma c'è Guarda nei barili, in qualche Beh, io non posso guardar Adesso è molto simile a New World la storia Qui c'è la porta, sì Qui c'è una porta, Luca Guarda, non è che ti è vera, se... Ti puoi unire, se vuoi, comunque, a noi E puoi giocare Ma io non ce l'ho al gioco Eh, lo chiedi me, 16 euro No, no Ti vado ancora a te, 16 euro No, se no poi entrano in un loop di comprigioie Ora inizio anno, c'è anche gli sconti No, no, no Un po' non mi fermo più Capiglianosco C'è C'è da pagare mutuo Altro che segre No No, mi sa che te li metti lì, eh sì Te li metti lì per poterli non trovare Sì, ma... Eh, bisogna metterci questi Coltellino a trovare No, eh, ci metti qualcosa Ma aspetta un attimo, perché c'erano oggetti che c'erano in tasca? Non ce li posso mettere per inventare, ti fa vedere? Ma metteci la tasca, dai, ce la metto io Ah, va bene Vabbè, volevo capire, se potrò farlo anche... Aspetta Piarino Digni, beh E se mi voglio equipaggiare gli oggetti, come faccio? Secondo tasca, ripagio, eh Doppio clicca, non ti va? Non so Vabbè, ho avuto qui Ah, qui c'era me il milio Eh, vai Dai, sei già pieno di peso Ah, iave Peccato, perché... No, lo porto, voglio portarlo Qui c'è una mina, non so se... Ho il vaso, posso tirare in testa, vero o meno Guardatore, il Magister Russo Ma perché è il Russo di nazionalità, oppure si chiama Russo? Russo Ah, c'è una leva quella Eh, ma io ormai l'ho considerato lui, pianto congelo Non lo vuole di svegliare Pergamela, ho un peggio nulla a te Ai ai Cosa? C'è un peggione lui, mi sa Vai, al di peso però, fa presto a riempirci via il discorso All'inizio Questa è meglio di uscita Boia C'è fatta? Io non vedo il diablo Ah Ah, c'è tutte e tre le possibili Possibili Ahiai, questa l'ho fallita I think the bestie come with me Some of the sins Ma noi non dovremmo essere gabbia Attacchiamo la guardia, ma ci si farà Si, se non è si, è mezzo morto Dai allo snitcher, vai Beh, esatto Perché il pioniere vè, sarebbe va Eh, io sono lottante ora Ma io non posso fare niente Non ho io, perché turno neutrali Turno nemici Ma aspetta un attimo, perché non ho seguito il discorso? Cos'è successo? Scusa lì C'era un prigioniero Io non vedo come un nemico il prigioniero Ha attaccato la guardia, non ha bisogno di difendere la guardia Ma ammazziamo tutti e due Ammazziamo tutti e due, vai Ok, allora devo capire com'è il discorso Se vi faccio un movimento Poi posso anche attaccare, giusto? Deve stare due, si Ah, ho visto È a turni o è libero? Il libro è una campagna e il combattimento è a turni Ah, ho visto, c'è il consumo di cose Sì, posso spostar qui Bene Allentato dal coso Scusa? Ah, perché l'olio mi faceva perdere più punti azioni Quelli che dichiarava, capito? Vaffanculo, vai Vai Vai, sta a te Tu non lo salto Eh, non so se da due colpi Da due colpi a quello del prigioniero O ammazziamo la guardia No, ma la guardia non me la fa attacca Eh, perché è naturale Iniziale 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 Ah, guardia che la guardia è già bosta Ma infatti si muore anche noi No, no Ah, sta muore andando stu Andava curata la guardia Eh, la madre è mancata Attacca-esperata, va Un punto azione Me lo fa a fa Ah si si Sorgente inibita mi dice Ah non lo posso usare io queste osi via Attaccalo a mano Non c'è alcune magie Eh immagino le posso usare Verrà perché ci sa il collare Si 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 Cortellino L'ha addormentato comunque Ma eh vabbè C'è un problema Un magister morto Vabbè in tale bastante Eh inibito via Anche il riannimo cadavere non lo posso fare Ah si riannimo cadavere si Scusa Dio vecchi Ma non è il range di tiro Ora quando muoio è quella cosa lì che evocava fa danni a tutti Tac No non è morto Non è morto È bestiace questa via È chiave guarda Ma io ti vedo un po' Un po' caldato Luca Per una funzione Vado No no non lo prendo la funzione Non lo prendo la funzione No 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 Eh no no Ma mi segue lì il viscidume Si si Può anche controllare Non è che sia il massimo Tu c'è un cazzo Luca Ti si chiude dentro? Ma come si fa a tirar gli oggetti? C'è il modo di tirarli Ti ricordi? No Un riorda Ma il capo è lì? Ti ingabbi? Non è tanto Non ti muovi quel punto e clicca Non con le fraccette La rotellina può adottare la visuale però Si vabbè Eh Qui c'è le scale Eh lo presto Ti portano qui Chissà è chiave Ah vedi ce l'ho io la chiave Vabbè ce l'ho io visto Bene E c'era anche il crash No Oppala oppala Si Bello Una pozione rossa Guardate è una pozione Ho trovato una pozione curativa Ah vabbè ce l'ho anche lì Eh già No Andate Dice il veleno che lo ha fatto io Il vomito interno Dare fuoco al veleno dice Ho fatto un casino Ho spaccato anche una porta Che ho visto Aspettiamo che È l'abilità delle lucette Il discorso di soffrire il rago Lo capito Lo capito C'è il gioco Vabbè mangiò i perorcini Ma eeeh Volevo dire se davvero la vita Non lo so Come no Strano Forse Chiusa a chiave Non so se tempo entra Aspetta Sì Sennò la sfondo Col soffio di drago Verai No Chiusa a chiave Ah ecco mi ricordo Io se questa prova fa Provo a tirare una cassa di fuoco Sulla porta Io guardo un attimo i comandi Occhio Luca Cosa? Eh ha fatto un casino lì dentro Anche io sto a sistemare i comandi Ho caciopato già la pozione Ma si fa a prendere le pozioni? Meglio ho fatto meno un cazzo alla porta Guarda Molto resistente Ah ma c'è la Aspetta qui perché mi si abbandona il tutorial è ora? voglio dire se quando sono vicino a te posso trovarti gli oggetti stai abbandonando il tuo lavoro, si vuoi? è certo, la scala è rimando sul, lì andando sul vai, non vedo